Due centrocampisti, un difensore e un esterno. La lista della spesa è sempre la stessa, ma a 20 giorni dalla chiusura del mercato ancora nessuno scontrino ufficiale è stato tirato. Per l'esterno è comunque questione di ore. Tra domani e al massimo sabato, Brian Capezza si è atteso in Irpinia. L'ostruzionismo dei greci del Panathinaikos, che non hanno preso di buon grado la decisione dell'Atalanta, si concluderà contestualmente all'accredito del bonifico della squadra bergamasca. Mark Wilmot, che ieri ha fatto una buona impressione al mister, non può essere invece definito il mediano che fa il caso di Novellino, semplicemente perché è considerato ancora troppo acerbo. Il mediano tuttavia qualcosa inizia a muoversi e dentro domani sera Cellino farà sapere la sua decisione su un doi. Dovesse dire sì, il centrocampista albanese verrebbe dirottato subito in Irpinia dalla Roma. Per Mastalli, invece, l'Avellino sta per abbandonare l'asta, semplicemente perché la Juve Stabia non abbassa il prezzo e nel frattempo Novellino e De Vito guardano altrove, precisamente in casa Sampdoria. Nel club Ligure, Novellino vanta ancora diverse amicizie e insieme ad Enzo De Vito ha sondato il terreno per Leonardo Capezzi. Si tratta di un centrocampista completo del 95, in grado di svolgere entrambe le fasi del gioco. Forte fisicamente, dotato di corse e di una buona tecnica individuale, Capezzi, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, si distingue per abilità negli inserimenti, il senso del gol e la freddezza dal dischetto. Alle spalle ha già 57 presenze col Crotone e appena una quest'anno con i Doriani. Virando su Capezzi, Lavellino abbandona definitivamente la pista Selasi, destinato a Lecce, mentre Rigoni del Chievo pare diretto verso altre mete. Niente da fare pure per Ras, che l'Atalanta ha deciso di trattenere. Per la difesa, infine, non essendoci la premura del reparto mediano, si continua a lavorare sotto traccia. La Roma, nell'ambito dei contatti tenuti in questi giorni con Doi, ha proposto il prestito di Elio Capradossi. L'ugandese, classe 96, potrebbe lasciare Bari. In cima alla lista dei desideri di Novellino, però, c'è un esperto che conosce bene. Si tratta sempre di Adriano Russo, 31enne del Frosinone, che sabato Novellino e De Vito incontreranno di persona nel dopo partita del Benito Stirpe.